Per 4 milioni di italiani la salute ha ancora un peso economico. Lo dice oggi l'Istat che fotografa un'Italia da bollino rosso, soprattutto al sud, dove sono 1.118.000 le persone che nell'ultimo anno avrebbero rinunciato a cure o esami per problemi economici. In cima alle cure rimandate o saltate, quelle odontoiatriche, particolarmente costose e quasi esclusivamente private. Al sud sono 1.256.000 le persone che nell'ultimo anno avrebbero rinunciato o esaltato l'appuntamento con il dentista. 751.000, quelli che sempre nelle regioni del sud, avrebbero rinunciato ai farmaci prescritti per problemi economici. Questo accade nonostante in tante regioni disoccupati, anziani e persone in povertà non paghino il ticket e le esenzioni sanitarie sono molto diffuse e anche se dai dati non emerge la proprietà o l'urgenza dell'esame esaltato, nelle conseguenze di non essersi curati o controllati e non sono censite tutte quelle persone fuori da qualunque sistema di protezione sociale, leggere che 4 milioni di italiani non si curano fa impressione. La politica dovrebbe curarsi di più della salute e pensare a quegli uomini abbandonati in pronto soccorso, esattamente come a quelli in mare.